Bella a tutti ragazzi, qua Freddy che vi parla e oggi siamo qui nel canale dei dubs per commentare un nuovo episodio delle clips of the week Per quanto riguarda i trick abbiamo una mia clip su greenband dove faccio un trick molto sick across the map Poche parole in questo trick a coltello, instaswap, finta di ricarica col fucile a pompa, di nuovo instaswap e uccido uno dall'altra parte della mappa che poco prima mi ha fatto hitmarker Per quanto riguarda le feed abbiamo ijet che si trova dentro il treno di express dove spona dall'infiltra e fa tripla headshot, no scoop, assurda davvero Complimenti ad ijet e niente ragazzi, iscrivetevi al canale dei dubs, mettete like e passate dal mio canale se vi va Bella